La mattina studentesse modello, la sera modello di prostituzione, un caso che ha dello sconcertante che ha visto finire in manette 5 persone tutte italiane, responsabili dello sfruttamento di due minorenni di Roma di 14 e 15 anni. A rivolgersi ai carabinieri è stata la mamma di una delle due minorenni che aveva notato un cambiamento radicale nel comportamento nella disponibilità economica della figlia e che ne aveva portato il conseguente allontanamento da casa. Le indagini hanno permesso di scoprire che le ragazze erano state adescate tramite un social network da tre uomini che le avevano poi avviate alla prostituzione, procacciando clienti e trattenendo una percentuale sui compensi ricevuti per gli incontri mercenari. Parte dei guadagni venivano reinvestiti dalle due per l'acquisto di sostanze stupefacenti ad uso esclusivamente personale. Diverso è il comportamento dell'altra mamma che era perfettamente a conoscenza del lavoro dopo scuola della figlia, tanto da chiederle la percentuale sui guadagni. Gli incontri reperiti mediante annunci privati in cui le ragazze venivano discritte maggiorenni, nell'ultimo periodo avveniva in un appartamento di Viale Parioli, adibito a casa chiusa, ora posto sotto sequestro.